ascolti io sto facendo delle operazioni di polizia non sto interrompendo nulla ora è arrivato il momento di riuscire in maniera un po' più forte sempre in maniera non violenta perché questa struttura lavabile si leva in pochi minuti se viene pubblicato qualcosa io sono costretto a sequestrare perfetto secondo secondo legge un po' più forte qui davanti al ministero dell'economia e della finanza perché l'italia sta finanziando sta sorvenzionando con miliardi la produzione dei combustibili fossili di industria di combustibili fossili non possiamo più andare avanti così non possiamo permettere questa cosa perché stiamo finanziando la nostra morte in questo modo stiamo finanziando la nostra morte quindi siamo costretti ad agire così perché nessuno ci considera abbiamo fatto marce, manifestazioni, digiuni e nessuno praticamente ci ha considerato ora è arrivato il momento di riuscire in maniera un po' più forte sempre in maniera non violenta perché questa struttura lavabile si leva in pochi minuti ascolti io sto facendo delle operazioni di polizia non sto interrompendo nulla non sto interrompendo nulla, lei lo sa non sta interrompendo e nemmeno le vi sto riprendendo e sappi che se viene pubblicato qualcosa io sono costretto a sequestrare il tutto perfetto, secondo legge perfetto, assolutamente d'accordo e intanto se mi da un documento, secondo legge grazie a tutti